Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, quando vi dico di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati con i nuovi video riguardo al mondo dello sviluppo di videogiochi e soprattutto per questo motivo, oggi faccio un video soltanto a quelle poche persone fortunate che riescono a vedere questo video entro 16 giorni dalla data di pubblicazione perché come state guardando qui, da qualche giorno è uscito praticamente all'interno del sito humblebundle.com un bundle relativo appunto allo sviluppo di videogiochi pagando diverse cifre di denaro è possibile ricevere degli assets ma anche alcuni programmi interessanti oggi infatti questo breve video andiamo semplicemente a vederli, poi vi lascio il link in descrizione e consiglio ad ognuno di voi di documentarsi sempre bene e così via per chi non lo conosce humblebundle.com è un sito dove qui dentro si possono comprare bundle di videogiochi, di programmi, di fumetti, di tantissime cose e appunto ogni settimana ne esce uno nuovo, ogni 10 giorni, ogni 15 e così via e praticamente alcuni soldi vanno agli sviluppatori dei singoli giochi, assets e così via ma la maggior parte dei soldi a chi vanno vanno appunto a delle fondazioni in questo caso noi se andremo a pagare un minimo di questi pacchetti adesso vi faccio vedere un po' come funziona i soldi verranno donati a Extra Life, Child's Play e GDRF sono delle fondazioni e quindi i nostri soldi dove in cambio avremo degli assets, pacchetti, videogiochi e così via alcuni verranno dati in beneficenza, quindi cosa bellissima io lo utilizzavo veramente tantissimo tempo fa, humblebundle e tuttora ogni tanto entro e controllo sempre i pacchetti disponibili vi spiego un po' come funziona spendendo 89 centesimi o più avremo tutti questi pacchetti qui e guardate un po', l'occhio cade ovviamente su Horror City Sprite Pack questo qui l'ho utilizzato io ragazzi per il gioco Ciccio vs Zombies trovate anche la playlist completa qui sul mio canale se vi ricordate è passato veramente tanto tempo da quel videogioco ebbene sì, quindi con 89 centesimi otterremo tutti questi assets anche questi qui che sono veramente molto molto belli sono 50 mostri che ne potremmo utilizzare per i nostri videogiochi guardate qui e ci sono anche tante altre cose ad esempio troviamo questo qui che se non erro sono musiche troviamo ad esempio anche altri assets 2.5D devo fare ovviamente un mega alert ragazzi controllate bene tutto quello che riguarda la licenza infatti non vi so dire con precisione penso che siano licenze singole se tutto quello che andrete a comprare poi lo potete utilizzare a scopi commerciali sono quasi sicuro che tutti questi assets potete utilizzarli per vendere i vostri videogiochi ma ovviamente non potete rivendere gli assets questo ovvio però documentatevi state bene attenti perché non vorrei dire cose sbagliate pagando quindi 89 centesimi otterrete tutte queste cose qui ma non è finito qua perché se invece paghiamo più di 19 euro otterremo tutto questo pack qui quindi tutti questi oggetti qui ragazzi questi assets e in più anche quelli di prima e guardate un po' troviamo ad esempio queste grafiche di Gatti Creum che questo ragazzo l'ho contattato tantissimo tempo fa per farmi fare le grafiche di Poor Dog l'ho pagato se non ero un 50 euro poi le grafiche non mi sono piaciute e ho scoperto che poi qualche assets oggi lo utilizza e lo vende qui su itch.io vabbè fa niente anzi ha fatto bene effettivamente perché io poi non ho accettato le grafiche che lui mi ha inviato non mi interessavano erano troppo stile giapponese e non ero interessato ad avere proprio quegli assets quindi con 19 euro e 54 possiamo ottenere tutte queste cose qui il retro music pack che possiamo cliccare qui ed ascoltare possiamo ottenere altri personaggi 2.5D altri 50 mostri possiamo ottenere anche pixel animation e effects questa cosa è bellissima infatti possiamo ottenere degli effetti che noi possiamo utilizzare per i nostri videogiochi e tantissime altre cose ma non è finita qua perché se invece doniamo più di 22 euro ragazzi ecco qui che arrivano delle cose stra interessanti ma non sono finite le cose che possiamo ottenere perché tra un po' ci saranno anche dei programmi che possiamo invece ottenere guardate qui con 22 euro possiamo ottenere tutte queste cose qui e più ovviamente le precedenti e possiamo ottenere 3 extension game assets queste sono fighissime sempre dello stesso sviluppatore ragazzi guardate che cosa bella cioè che poi tra l'altro se compriamo questi assets qui o comunque se li otteniamo possiamo scaricare gli altri e creare veramente un gioco molto molto grande con tutte quelle ambientazioni possiamo ottenere altri 50 mostri otterremo un altro pack horror city quindi anche gli interni se non erro collegandoci agli assets di prima possiamo creare la vostra versione di Ciccio vs Zombies però più completa rispetto appunto agli assets che ho utilizzato io musiche e tanto altro ma la grande novità ragazzi sta proprio qui infatti pagando 26 euro o più possiamo ottenere delle cose stra interessanti la prima Omega Modern Graphic Pack questo è uno degli assets pack più grandi a dire il vero disponibili su Itch dove all'interno possiamo trovare tutti questi assets ma in più possiamo trovare anche i personaggi e in più possiamo trovare le icone i mostri tantissime cose quindi secondo me se compriamo questo pack possiamo veramente fare un gioco un po' grande a dire il vero veramente molto grande questo asset se non erro è stato perfettamente fatto per RPG Maker ma possiamo utilizzarlo per qualsiasi altro engine quindi non vi preoccupate se utilizzate Unity, Construct e così via e guardate qui questo pack costa 37 dollari se invece ne andiamo a spendere su Humble Bundle 26 euro non solo otterremo questo pack e quindi già risparmiamo perché costa 10 euro in meno ma in più tutte le altre cose che abbiamo visto fino ad ora e non è finita qui oltre a ottenere altri pack guardate qui cosa possiamo ottenere possiamo ottenere 001 Game Creator che vi dico la verità ragazzi io non lo conoscevo questo tool ma 001 Game Creator è un engine per realizzare videogiochi ora non ne voglio parlare in questo video quindi sicuramente ci farò un altro video su questo canale ma quello che vi dico sempre utilizzate engine un po' grandi o comunque engine dove è possibile trovare molti tutorial in rete comunque questo engine è a pagamento quindi lo si può comprare se non erro a 50 euro invece pagando su Humble Bundle 26 euro abbiamo questo engine che serve per creare videogiochi 2D e 3D vi dico la verità magari se comprate questo pack e vi ritrovate a provarlo provatelo però la cosa bella secondo me di utilizzare altri engine che sono molto più conosciuti e quindi sarà più facile ovviamente imparare a creare videogiochi non conoscendolo non posso darvi delle informazioni quindi dovrei documentarmi e la cosa bella se paghiamo 26 euro non è soltanto l'Omega Modern Pack ma tutte le altre cose ma anche ragazzi la nuova versione di Pixel Mesh questo programma serve per fare pixel art ci sono delle cose molto interessanti che possiamo fare costa soltanto 25 dollari qui pagandone invece 26 possiamo non solo ottenere questo programma ma anche tutte le altre cose che abbiamo visto fino ad ora io ragazzi vi consiglio di andare a vedere se effettivamente questo pack potrebbe servirvi se volete realizzare dei giochi RPG o comunque giochi dall'alto 2.5D e così via magari potrebbe servirvi comprare questo pack comunque state ottenendo delle cose che possono servirvi per i vostri videogiochi e in più ragazzi state facendo del bene perché appunto i soldi andranno a finire in beneficenza quindi potete documentarvi ci sono tutte le cose in descrizione se ci sono dubbi potete trovarli e guardate qui c'è anche un video dove fa vedere che effettivamente il valore di questo pack è di 769 dollari mentre se spendiamo 26 euro otteniamo appunto tutto che ha un valore maggiore di 700 euro ragazzi quindi per questo video è tutto fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di quell'engine ma soprattutto di tutto il pack o di tutti i piccoli pack quindi se comprerete questi assets oppure no sono molto interessanti quindi vedete effettivamente se possono servirvi mi piace fare anche video di questo genere dove vado ad aggiornare persone che comunque magari non sono iscritte a questi siti e che comunque sono alla ricerca di assets di questo genere ed eccoci qui con un video sul canale se vi è piaciuto questo video vi basta semplicemente cliccare un pollicione in su e se volete rimanere sempre aggiornati con il mondo dello sviluppo di videogiochi bene ragazzi cliccate il bottone iscriviti ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video e allora ci vediamo domani ciao ciao ciao